Parliamo della cancellazione di Dark Crystal. Che cos'è? Secondo me è duopo spiegarlo, perché visto il risultato dell'operazione, cancellazione dopo una sola stagione... Tra l'altro due giorni dopo aver vinto l'Emmy. Tra l'altro, credo non molti l'abbiano vista. È una produzione Netflix, si tratta del prequel di un film cult degli anni Ottanta, dal titolo Dark Crystal, inaudito, diretto da Jim Henson, che è il papà dei Muppet, per chi non lo sapesse, e da Frank Oz, che era l'animatore dei pupazzi che ha realizzato Yoda, per intenderci. Quindi una produzione a quattro mani, film che all'epoca, a dire il vero, non andò benissimo, ma con il passare del tempo è stato rivalutato, acquisito uno status di cult, giusto appunto, cosa che ha portato Netflix l'anno scorso a mettere in cantiere questa serie prequel, sempre basata sull'utilizzo di pupazzi. Quindi questo è lo stile scelto per raccontare questa vicenda dal sapore dark fantasy, alternandolo però anche con un utilizzo parsimonioso della CGI, per creare delle ambientazioni suggestive. Un'operazione che è stata molto apprezzata dalla critica, in particolare, e anche dal pubblico sparuto che l'ha vista. Sparuto perché Netflix, dopo una sola stagione, ha deciso di cancellarla. A comunicarlo la figlia di Jim Henson, Lisa Henson, che conferma che The Dark Crystal Age of Resistance non tornerà per una seconda stagione, anche se lei lascia intendere che si darà da fare per trovare il modo di raccontare il resto della storia. Forse in altri media, il fumetto, ad esempio, potrebbe prestarsi un romanzo, chi può dirlo? C'è chi sostiene che il prodotto, che come ha detto Gabriella, ha 21 Emmy, potrebbe diventare di colpo appetibile per altre piattaforme in streaming alla ricerca di contenuti originali. Si può citare Prime, ma anche tutta quella pletora di piattaforme che è appena emersa negli Stati Uniti, come HBO Max, Peacock e tantissime altre. C'è però un problema, che secondo me è il problema che ha portato alla cancellazione. Credo sia una serie molto costosa, proprio perché per realizzarla è richiesto un impegno notevole la realizzazione di tutti questi effetti pratici, delle marionette, gli animatori. Non è sicuramente una serie a basso budget, anzi, e quindi è richiesto un certo quantitativo di pubblico per permettere il rinnovo. Sinceramente non è una notizia che mi sorprende, perché qui in Italia mi sembra che Dark Crystal abbia avuto pochissimo riscontro, almeno sui social, a livello di base, di chiacchiericcio. Ovviamente utilizzo il mio canale come piccolo bacino di risonanza e in pochissimi ne parlavano in chat, nei commenti. Non ho ricevuto chissà quante richieste per parlarne. Quindi la sorpresa da parte mia è minima, di certo un dispiacere, anche perché Netflix ogni tanto viene criticata per dare particolare attenzione a serie di stampo prettamente commerciale, rivolto a un pubblico di teenager, questa era un'offerta un po' diversa, forse era difficile intravedere un target chiaro e delineato per un'operazione di questo tipo. Perché ok, ci sono i nostalgici, ma quanti si ricordano nel 2020 ancora di Dark Crystal? Prima domanda. E per quanto riguarda il nuovo pubblico, è davvero un'operazione appetibile per i giovani d'oggi e per un target quadrimensionale? Forse no, forse no. Immagino anche che abbiano fallito dal punto di vista del marketing, perché poi con un marketing studiato e rodato si può rendere appetibile anche un prodotto un po' più di nicchia, ma mi sembrano si siano sforzati più di tanto. Non so francamente quale risultato volessero ottenere, di certo il risultato che volevano ottenere non è arrivato. Non si trattava di un reboot, era un prequel, lo sottolineo, vista un po' di poca chiarezza in chat. Si trattava di un prequel, quindi se alla fine un nuovo rilancio, anche adatto a nuovi spettatori, che però non sono arrivati, oppure non sono arrivati a sufficienza. Gabriella, cosa ne pensi della cancellazione di Dark Crystal? Allora, 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 a parte che mi dispiace moltissimo in realtà, come dici tu quando fai la domanda, non so che cosa loro si aspettavano, no? Che tipo di riscontro. È ovvio che Dark Crystal è uno di quei risultati per cavalcare la nostalgia. Quei risultati dove tutto ciò che è stato partorito negli anni Ottanta, oro, bono, bellissimo, famose una serie. Famo un nuovo sequel, un nuovo prequel, un reboot. È ovvio che questa cosa non sempre può funzionare, perché un conto sono i derivativi. E quindi, che ne so, mi viene in mente Stranger Things, dove ci sono una serie di citazioni, di quote, di mood degli anni Ottanta. Un altro è quando prendi una cosa così di nicchia, così particolare, come è stato i fili di Dark Crystal, e ci fai su una serie TV. Anzi, incredibile che alla fine l'Hub siano riusciti a realizzarla, considerando che indubbiamente sarà costata una fracca di soldi. Io non lo metto in dubbio che sia costato tantissimo, e per quanto è costato non ne ha parlato letteralmente nessuno. Avevo un cast vocale assurdo, pazzesco, c'erano tantissimi attori, però è vero, ne hanno parlato in pochi, in 4-5. Dunque, io stessa su Lega Nerd ne abbiamo parlato pochissimo, perché effettivamente da parte pure della nostra utenza non è che c'è stato chissà quale riscontro, non c'è stato proprio modo poi di approfondire. Ed effettivamente anche Netflix aveva iniziato a pomparlo un po' all'inizio, poi non è appena arrivato e è passato completamente in sordina. Io stessa me l'ero completamente dimenticato prima di oggi, o meglio, di due giorni fa, quando è stato detto Ciao, Dark Crystal non si farà. Poi dispiace, dispiace anche perché era un prodotto di qualità, secondo me. Comunque funzionava, era carino, era bello, era ben fatto. Se faccio un confronto rispetto a tanta o altra robaccia di Netflix, purtroppo il Covid ha messo Netflix di fronte a una situazione monetaria abbastanza importante. Vi ricordate, se vi ricordate, un mese fa hanno cancellato due serie molto carine che dovevano per forza andare avanti. Una di queste è I'm not okay with this con Sofia Lilis, che era una miniserie tra l'altro. Finisce in mezzo e in mezzo, cioè non è una roba piccola, finisce proprio in mezzo e in mezzo. Si vede che era una prima parte di parte 2, parte 3, parte 4. Ed era fatta pure molto molto bene sulla scia di, che ne so, un po' Sex Education e un po' The End of the Fucking World. Sofia Lilis poi, bravissima come sempre. È un peccato quando poi vedi la quarta stagione di 13, la terza stagione di Baby, la centesima stagione della Casa de Papel e quella e quell'altro, no? E non parliamo nemmeno di Elite perché se no, insomma, qua c'è direttamente da andare al cesso, giustamente. Quindi, intanto, quelle portano evidentemente più soldi, più accessi. Per quanto sia l'ultima stagione, la chiudiamo qui. Queste no. Quando dice no, il buon René Ferretti diceva la qualità ci ha rotto il cazzo. E purtroppo è molto vero. Con chi ce la possiamo prendere? Un po' con Netflix, indubbiamente. Ma un po' anche col pubblico che guarda Netflix, evidentemente. Perché gli accessi quelli sono. Se non ci fossero gli accessi, non prenderebbero queste decisioni, eh. Non è che Netflix la mattina si sveglia e fa Ah, preferisco quella merda di Baby, piuttosto che Dark Crystal. Evidentemente, quella merda di Baby, se la sono vista a molte più persone, Dark Crystal hanno visto quattro gatti, fra cui appunto la figlia del creatore, praticamente. Anche perché sia io che te diciamo che di Dark Crystal non ha parlato nessuno, anche perché non si sentiva un'urgenza, una richiesta da parte del pubblico. Io non ho mai visto La Casa di Carta, so perfettamente cosa è successo nelle varie stagioni, perché appena arrivano le nuove puntate, su Facebook è pieno. Di meme, di immagini. E poi, come al solito, vi già anche la regola, parlarne bene o parlarne male, ma se ne parla. Perché se ne parli, certo. Continuano a guardarle. Dark Crystal è sprofondata. Sfiorando a breve, brevissimo l'argomento. Ieri abbiamo avuto un grande esempio con quel grande caos creato da un evento di cui non stiamo a parlare, però vedi esattamente quello. Bene o male, se ne è parlato tutto il giorno, si parlava solo di quello. E questo è il senso, assolutamente. Proprio questo. Per me queste notizie continuano a fare un po' di scalpore, perché permane la percezione con cui Netflix ha fatto il suo esordio in Italia. Sembrava l'oasi. Netflix piglia tutto, Netflix salva tutte le serie. Netflix è il porto sicuro dove gli autori possono esprimersi. Non è così, ha comunque un impianto commerciale. Quindi Dark Crystal proviamo a farlo. Forse proprio sulla spinta di questo revival anni Ottanta, che tra l'altro sta anche finendo e passeremo presto a 90. Perfino Stranger Things sta passando ai 90, pensate un po'. Perfino Stranger Things. Però non è andata e quindi, come piace dire al mio amico Victor, anche Netflix non è una on-loose, si fanno i conti in tasca, soprattutto in questo periodo dove la pandemia ha colpito duro tutti i reparti, anche quello creativo, ed inevitabilmente delle teste cadono. Stavolta sono cadute le teste di pupazzo dei protagonisti di Dark Crystal. È un peccato, io comprendo il dispiacere, lo comprendo benissimo, però chiediamoci sempre qual è la motivazione alle spalle. Ed è indubbio che Dark Crystal non abbia ottenuto chissà quale battage mediatico, pubblicitario e anche a livello di riscontro. Giulia, non so se tu hai avuto una percezione differente, e quindi Netflix è una cattivona. Ma diciamo che un po' è anche il discorso che secondo me è un prodotto effettivamente un po' difficile, nel senso che per quanto possa essere bello e i costi abbiano davvero dato magari qualità, ci troviamo in una cosa molto molto nostalgica, in un momento in cui non so quanto riportare dal passato dei pupazzi possa essere utile, non solo a livello commerciale, ma anche del target dei nostalgici. Perché, intendiamoci, io so l'opera da cui è tratta la serie TV. La serie TV invece mi è capitata, ho visto qualcosina, ma non l'ho neanche guardata tutta. Quindi mi viene anche da dire che la difficoltà sta un po' in questo, che non tutti i nostalgici si buttavano su un prodotto di questo genere. Perché il target è un po', sarebbe basso, ma allo stesso tempo vuole riprendere dal passato. E' un tipo di target molto particolare. O mi crei un'opera che sia effettivamente pregevole per due tipi di pubblico, così i grandi e i piccoli si contagiano e quindi effettivamente riesci a trovare il tuo pubblico, oppure bisogna che mi selezioni. Mi scegli se farlo per dei bambini, allora fai tutti gli accorgimenti per i bambini, o mi scegli un qualcosa da nostalgici. Qui è molto difficile, perché non potevano basarsi su un pubblico adulto, dovevano per forza basarsi sui bambini. Ma io mi chiedo, quando si pescano cose dal passato, bisogna rendersi conto che alcune sono talmente, scusate il gioco di parole, cristallizzate nel loro periodo storico, che andarle a toccare, non solo rischi di sfigurarle, ma di fatto non riesce a dare quell'emozione che dava in passato. Perché poi il punto è proprio questo. Non è il riportare papale papale una cosa e rinnovarla solo negli aspetti che servono, ma è il dare la stessa emozione in un periodo storico diverso. E secondo me questo dovrebbe far riflettere su cosa si può trasporre o si può riportare e cosa no. E secondo me questa ventata anni Ottanta ci ha dato molto l'idea che certe cose è meglio lasciarle nel loro periodo e godersele tenendo presente il periodo da cui provengono. Invece che vedere un cambiamento che poi fondamentalmente noi siamo cambiati, siamo diversi. Io sono una nostalgica di anni Ottanta e Novanta, perché quando ero piccola li ho vissuti o li ho visti, perché io sono del 93, però certe cose adesso so che non funzionerebbero e le apprezzo proprio perché hanno avuto il loro momento nel momento giusto. Secondo me è un po' quello il problema del riprendere dal passato, che ci sono dei limiti evidenti e si può snaturare fino a un certo punto e solo se si ritrova quella chiave emotiva che fa dire ok. E tenendo presente che dopo c'è da guadagnarci. Secondo me questa era una serie interessante, bella visivamente, poteva essere intrattenente, il problema è che secondo me era un flop in partenza a livello di guadagno, perché non trovi il pubblico. Non trovare il pubblico non sai neanche come sponsorizzarla. Io personalmente non ho quasi visto nulla a livello di marketing, quindi io lo sono venuta a sapere attraverso Instagram, fate voi, di persone nostalgiche che ho tra i contatti. Quindi secondo me è un'operazione che si è provata a fare perché magari c'era il sentimento ma che non ha tenuto conto di tante cose. Ha vinto un Emmy però non al pubblico. E' un peccato. E' un peccato anche perché dovremmo guardarli obbligatoriamente noi nostalgici, no? I ragazzini dovrebbero capire che vengono da un altro periodo, no? Deve essere tutto un miscuglio, deve essere chiaro quando lo vedi, non fare in modo che il pubblico debba capire. Secondo me è questo un po' il problema. Poi vabbè ci sono anche altre cose riguardo Netflix, nel senso sono d'accordo con quello che diceva anche Gabriele Croix ma anche con quello che dicevi tu. Netflix non è una onlus ma d'altra parte effettivamente è necessario anche un po' di qualità. Ci sono dei prodotti che vanno un sacco e che oggettivamente sono dei prodotti di livello proprio basso. E va bene, va bene lo spegnere il cervello e l'intrattenersi e basta. Per carità di Dio, horror schifosi ne guardiamo tutti. Il problema è che secondo me mancano le mezze vie che dovrebbero essere tipo l'80% del catalogo, la mezza via, in modo che abitui un po' il pubblico e le cose di qualità non vengono sponsorizzate come dovrebbero e non vengono scelte secondo me neanche troppo correttamente. Quindi è un po' quello. Sono una mezza via tra di voi. Ma concordo col fatto che effettivamente sono pupazzi. Andava come dici tu, sono completamente cristallizzati nel loro tempo. Adesso è proprio difficile trovare un pubblico perché i bambini non sono più interessati al 2D. Figurati se sono interessati a questi pupazzi. Disney fa il live action apposta proprio perché i bambini magari non si guardano il Re Leone degli anni 90 ma preferiscono il Re Leone in CGI. Figurati se sono interessati a questo modello che è completamente datato, è completamente fuori tempo massimo. Diciamocelo, sono spalle i pupazzi adesso. I pupazzi sono utili come spalle o come protagonista se hanno una loro idea, una loro razio particolare. Perché negli anni 80 era così. Perché negli anni 80 era pieno di pupazzi, appunto dal cristal, elmo, i mappet. Pensate anche in Italia, bim bum bam che aveva come personaggio principale un pupazzo. L'albero azzurro. Cioè era quello anni 80, anni 90. Adesso non è più così, non esistono più questo genere di mascotte, mascotte, chiamiamoli in questa maniera. È ovvio che è diverso ed è difficile trovare un pubblico. Come dici tu, è pressoché impossibile. Potrebbe esserci anche un caso di falsa percezione alla Blade Runner. A me è venuto un po' in mente, perché appunto Dark Crystal, poi forse più oltreoceano che qui, alla fine è diventato una sorta di cult. però all'epoca floppò. Sì, esatto, esatto. Tra l'altro. Blade Runner, il cult, ah sì, grande Blade Runner, Ridley Scott, però al cinema fu un flop. E chi l'ha visto? Effettivamente, nel pubblico che non fa parte della nostra cerchia cinefila. Infatti, non so, ho trovato dei punti di contatto. Secondo me, queste operazioni dovrebbero essere un po' più sofisticate, intelligenti, però si sono tutte frutto di una voglia di revival che non è vero, non ce la stiamo lasciando alle spalle, la stiamo spostando altrove. Ci stiamo spostando agli anni 90. Chissà se saremo ancora qui su YouTube a parlare della nostalgia per gli anni 2020, quando in tutte le produzioni, per far capire che siamo nel 2020, ci saranno i personaggi con la mascherina e chiusi in casa. Sarà bellissimo. Sarà un'eco nostalgica di rara fattura e bellezza. E io butterei lì, in chiusura, però è interessante secondo me come paragone, la questione di Man in Black. Il nuovo Man in Black aveva un sacco di... Sì, 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 mi rendo conto, lo so, lo so, scusate, prendiamo tutti un Malox, però dicevo, il nuovo Man in Black aveva dei personaggini che sembravano voler strizzare l'occhio ai bambini e comunque anche lì il target, ci facciamo vedere Man in Black e i bambini, magari ci sta e gli adulti nel frattempo prendono la corda e cercano una trave. Cioè, quindi, devo dire la verità, Man in Black vi fa capire che anche l'animazione, se non è ben giocata, non ha senso. Cosa è rinvocato? Perché questi incubi... Parliamo di horror, scusate, è qua, dovevo citare per forza. Uno dei film più brutti di... Quando è uscito? L'anno scorso? Sì, l'anno scorso. Terrificante. Mamma mia. Terrificante, mi stavo addormentando a vederlo. Ma... Io quando i film mi fanno talmente tanto schifo, mi incazzo ancora di più perché vorrei dormire, non riesco a dormire. C'è una roba che mi fa uscire fuori di testa, quindi mi nacidisco ancora di più, divento... mi incattivisco ancora di più. Io ero anustralizzato. Madonna. Va bene. Siamo partiti da Dark Crystal e siamo finiti a Men in Black. Perché... Va bene. Non lo so, però è stato bello.